Mi chiamo Sara e sono italiana. Io sono arrivata al campo qui in Giordania quasi per caso, perché cercavo un'attività di volontariato e invece sono stata completamente sorpresa. Il campo è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato tanto sulle diverse culture, su un mondo che non mi potevo aspettare. Certo, ci sono stati alcuni momenti di convivenza che possono sembrare difficili, ma sta anche in quello, secondo me, il costruire la pace. Quando riesci a vivere con persone che hanno culture diverse, religioni diverse, anche idee diverse, tutti insieme e a divertirti, allora quello vuol dire secondo me che riesci a creare la pace, che la pace è possibile dovunque. Molti dei miei amici adesso sono partiti, erano giordani, spagnoli o anche italiani, ma che so che non rivedrò e mi mancheranno tanto. A volte pensavi come è possibile che i rifugiati possano vivere un anno, due, nelle stesse condizioni, anche con il meno di quello che avevamo noi. Secondo me è stato utile per farci anche un po' realizzare, anche se forse non potremmo mai capire la loro esperienza.